Musica Alla partita di Canzaro è stata tutta un'altra storia Polistana ci ha provato con i gomiti, il rimbalzo, con tanta forza fisica specialmente sotto canestro ma la gioiese è indubbiamente una spanna superiore Capitano, vi siete ripresi alla Grandes questa sera? Ma sì, diciamo di sì, anche se credo che ancora la strada è lunga perché siamo passati da un mese un po' tribolato il fatto che comunque Farana sia rientrato per noi è una garanzia e con lui cambiano gli spazi in campo perché comunque se hai una presenza come Leo sotto canestro apre molti spazi agli esterni quindi si gioca un po' più con tranquillità un po' più di scioltezza, soprattutto difensivamente ci dà una grandissima mano possiamo aumentare la pressione difensiva perché comunque c'è lui dietro che aspetta e aiuta quindi io direi di sì, anche se comunque c'è ancora molto da fare da inserire questo nuovo ragazzo James che comunque sa giocare a pallacanestro io sono convinto che alla fine potremmo dire la nostra anche se è più dura di quello che possa sembrare L'indagine di tutta storia giovanile parla oggi con Cochimermolia un ragazzo che da Gioia Tauro ha preso la valigia e ha conciaggiato l'Italia rifaresti questa scelta a posteriori? Sì, sì, assolutamente sì è una scelta che mi ha arricchito tantissimo che mi ha praticamente cambiato la vita perché comunque andare via a 16 anni impari tantissime cose poi mi ha formato professionalmente sotto l'aspetto tecnico, tattico mi ha aperto la mente chiaro, se diciamo nascessi in questo momento le cose sarebbero diverse perché quando l'ho fatto io era un po' più diverso diciamo che 10 anni fa in Calabria la pallacanestro non era come adesso quindi era un po' più difficile però credo che la Calabria a livello giovanile abbia fatto dei passi in avanti incredibili abbiamo 6 o 7 giovani comunque fanno parte della Serie A sono in giro nazionale si è ricreato dopo 10 anni quasi di buio credo che la Calabria stia sfornando dei nuovi talenti sono contento Dunque, zero pessimismo se c'è un talento può crescere anche in Calabria e anche lontano dalla Calabria? Ma credo di sì se gente come non per dire voglio dire Gianni Benedetto Gianni Tripodi gli anni passati hanno fatto un lavoro la nuova Giolli o comunque il lavoro fatto alla viola reggio Calabria allenatori come Massimo cioè ci sono gli allenatori in Calabria anche a Gioia Tauro voglio dire hanno investito tantissimo negli anni passati a portare gli allenatori solo per il settore giovanile quindi se le società si rendono conto che i ragazzi hanno bisogno di gente che gli possa dare qualcosa che ha esperienza e diciamo sia fatto a livello professionale quindi presa una persona competente che possa portare avanti 3-4 anni questi giovani io credo che la Calabria è piena di talenti piena sulla tua Gioia Tauro speriamo di vedere un playoff con tanta tanta gente al palazzetto per magari crescere il settore giovanile e continuerà anche in estate sì sì questa è un po' una cosa che mi dispiace ma capisco il fatto che adesso le attenzioni sono a Reggio Calabria le energie le risucchiamo moltissime energie credo che la città un pochino sia abbia frainteso questa scelta societaria non abbia capito diciamo che comunque la società Gioia Tauro ci tiene vuole ricominciare vuole fare le cose fatte bene ha bisogno anche comunque di vedere che la città segue la società anche nei momenti difficili non solo quando dobbiamo fare la finale per salire in B2 e quindi vengono tutti al palazzetto io vorrei vedere la gente al palazzetto anche se siamo quinti in classifica in serie D allora la società lì potrà pensare di investire ma se la gente viene solo quando noi vinciamo siamo primi è troppo facile quindi che cominci la città a venire incontro alla società e che poi la società farà grandi passi per ritornare diciamo agli anni passati in cui investiva tanto speriamo bene speriamo bene ti ringrazio per la città 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 per la città